Non è stata la vittoria più bella della stagione, a livello di puro spettacolo per il pubblico, quella disputata alla Pala Elettra tra Amatori Pescara e Stella Azzurra a Roma, terminata con il punteggio bassissimo di 59 a 50. È stata però una vittoria di cuore e di carattere per i bianco-rossi di coach Enrico Fabri, privi dell'argentino Deep e con Pepe debilitato da un forte virus influenzale. Una vittoria che complice la sconfitta di Vasto nel derby contro Giulianova, regala all'Amatori il terzo posto solitario in classifica. La terza vittoria consecutiva è la consapevolezza di avere un grande spirito di squadra, elemento fondamentale per vincere partite di questo tipo con una situazione d'emergenza nel roster. I primi dieci minuti di gioco però lasciano presagire una giornata d'ordinaria amministrazione per l'Amatori che con i canestri di Pepe, di Donato e Buscaino subito indirizza bene il match. La Stella Azzurra perde tantissimi palloni e non trova la via del canestro. Prima frazione che si chiude quindi con i bianco-rossi meritatamente in vantaggio, 21 a 10. Nel secondo quarto però cambia la partita, coach d'Arcangeli dispone una zona 2-3 e l'Amatori comincia a far fatica in attacco. I nero-azzurri prendono fiducia e trascinati da Forte, Pappalardo e Faccenda cominciano a rosicchiare punti fino a raggiungere la parità, 30-30. Una tripla di Buscaino allo scadere ridà un possesso di vantaggio a Peschiara. Nella ripresa si segna pochissimo e l'equilibrio regna sovrano, ci pensa a Maino con due tripla a spezzarlo portando i paroni di casa su più 8. La stella azzurra però non molla di un millimetro e ricuce subito lo strappo grazie a due belle giocate di Moretti, 45-41 al trentesimo. Nell'ultimo quarto l'uomo chiave per l'Amatori è Buscaino, MVP del match con 20 punti, 12 rimbalzi in 40 minuti di gioco. L'argentino infatti respinge ogni tentativo di rimonta dei capitolini che non riescono mai ad andare in vantaggio. Il tempo scorre ed una tripla allo scadere di Didonato fissa il punteggio definitivo sulle 59-50. Adesso per l'Amatori ci sarà la trasferta dedicata sul campo del Senigallia, sesto in classifica, un'occasione per consolidare il terzo posto e tenere il passo di Rieti e Latina.